Il Presidente Segni è il primo capo di Stato che rende omaggio in forma ufficiale al nuovo pontefice. Appena varcata la linea di confine lo accolgono i Principe Facelli e il Conte Galeazzi. Segni è accompagnato dal Ministro degli Estri Piccioni e da un seguito di 11 persone. L'intera corte papale è convenuta ad accogliere il capo cattolico di un paese cattolico. Nella sala del tronetto il colloquio fra Paolo VI e Segni dura 35 minuti. È stata una conversazione cordialissima diranno poi i commenti ufficiosi. Paolo VI dopo avere benedetto i personaggi del seguito ha pronunciato un breve discorso concludendolo con un caloroso augurio all'Italia. Conversando affabilmente con lui il Papa ha accompagnato il Presidente Segni fin sulla soglia dell'anticamera segreta. Grazie.